Buonasera, siamo al Vinitaly, siamo al padiglione della Toscana, in particolare ci troviamo alla Marchesi Gondi Tenuta Bossi, che è un'azienda storica che appartiene alla mia famiglia dal 1592, si parla di 25 generazioni di produttori di vini dediti al mantenimento del nostro territorio, il Chianti Rufina, una delle più belle aree della Toscana. Da sempre è un grande carattere che ci contraddistingue e soprattutto negli anni l'azienda è stata gestita a livello familiare, siamo dei vignaioli romantici, quindi piccole produzioni di altissimo livello. Abbiamo fatto nostra una frase che disse Galileo Galilei, il vino è un composto di amore e luce, proprio perché l'amore che noi dedichiamo alla cura della vigna ci consente di ottenere una grandissima uva e quindi un grandissimo vino. Qua abbiamo il Villa Bossi, l'emblema della nostra azienda, il più alto dei Chianti Rufina, la massima espressione del nostro territorio. Viene dal nostro vigneto più importante, il diamante che fu scoperto nel 1840 dalla mia quadrisnonna, è stato rimpiantato nell'89 appunto con 80% Sangiovese, 10% Cabernet e 10% Colorino. Fa un invecchiamento di un anno in botte di rovere, un anno di barrique e almeno due anni di bottiglia. Un vino da grandissimi sentori di ciliegia, amarena, mora, spezie come la vaniglia, il cacao, il caffè e un po' di liquirizia. Ha un vino quindi molto complesso che si abbina perfettamente alla bistecca, ovviamente alla fiorentina.